Ogni settimana cerco di imparare qualche cosa di nuovo in questo 2023 e una delle cose che ho cercato di imparare a gennaio è stato gli scacchi Da zero, da proprio principiante totale, giocavo magari da bambino però non ho mai giocato a scacchi ho cercato di migliorare e magari qualcuno ha visto il video, ha intervistato il campione italiano, ex campione italiano, la campionessa italiana è stata un'esperienza molto interessante, non sono affatto bravo però poi me lo sono portato dietro perché chess.com ha organizzato un torino di scacchi, il PogChamps e ho giocato anch'io, ho perso in finale con Blur, bravissimo, complimenti a lui, ottimo giocatore così come tutti i partecipanti, un po' di youtuber, personaggi, ognuno con passione ha provato a fare del suo meglio ed è stata una bellissima esperienza e questo mi ha fatto riflettere su vari aspetti inevitabilmente, non solo degli scacchi ma del lavoro, della vita personale di tutti gli errori che faccio in continuazione, delle cose che magari uno ha capito e funzionano 5 cose al volo la prima è che al solito sapete la frase che dice che the ring takes care of itself l'anello si prende cura di se stesso frasetta usata nell'NBA che significa che tu non ti concentri sul risultato finale il risultato finale è una conseguenza delle azioni, delle abitudini, delle procedure il modo di pensare che metti in pista ogni giorno per arrivare a quel risultato finale se tu fai tutto giusto il risultato finale arriva come quelli che dicono ah io voglio diventare ricco non è che diventi ricco perché dici voglio diventare ricco ah è ricco se fai tutto giusto e la conseguenza è che diventi ricco insomma una roba del genere e gli scacchi è la stessa cosa ho notato che quando sei un principiante come me ti concentri sul risultato finale voglio dare scacco matto vedi il re? c'è soprattutto che lo tiro giù come un toro vai dritto così bull run e invece è una conseguenza quando vedi giocatori veri sembra quasi che non facciano niente stanno lì, piazzano i loro pezzi iniziano a creare questa rete erodono un pezzettino qua e alla fine dei conti tu sei lì corre da solo e loro hanno ancora tutto quanto è una conseguenza ottima lezione da ricordarsi la seconda cosa evidente degli scacchi è quando tu ti immergi peraltro non ti puoi staccare perché ormai per come sono fatte anche queste piattaforme tu inizi a giocare hai la classifica vedi salire, scendere per cui sei preso dalla classifica è questa gamification del gioco che ti porta a continuare a giocare io ho fatto, non so, 900 partite in due mesi non so, mi sono immerso più due minuti a giocare, giocare, giocare parentesi piattaforme però ti fa ragionare su come effettivamente anche il mondo dei videogame funziona allo stesso modo ormai ti immergi completamente e diventa proprio ossessivo in un modo positivo da un lato ma dall'altro lato e veramente ti crea una dipendenza totale però a parte questo l'altra ossessione diventa vedere tutti questi video i tutorial i contenuti per capire vuoi fare una mossa vuoi aprire col bianco col nero cosa faccio? faccio la karokan faccio la viennetta l'olandese la giapponese il trucco segreto dell'aerone volante cioè che cosa devo fare e allora inizi a vedere tutti questi video e hai un sacco di video che fanno molte visualizzazioni dicendoti i trucchi le trappole lo scacco matto in sette mosse ma con questa mossa distruggi anche Magnus Carsen e via così e questo è una grande distrazione e l'abbiamo visto già in un sacco di altri settori ne abbiamo già parlato anche nei video degli scacchi è incredibilmente evidente per me negli scacchi dove hai dei creatori di contenuti peraltro molto bravi dei canali fatti benissimo se vai a vedere i video più visti i video più visti non sono a masterclass di tre ore con i principi dettagliati che sono quelli che poi ti servono ma è il video virale su tiktok boom ma l'hai visto il matto del barbie non so questa roba è qua fare attenzione alle scorciatoie e questa è l'altra lezione i principi di base poi sono quelli che funzionano ma non è che ce ne siano tantissimi agli scacchi ad esempio c'è tre principi il principianto dovrebbe sapere centralizzare sviluppare i pezzi e arroccare non è che devi fare altro paradossalmente però quando giochi ti rendi conto che alla ventisettesima mossa non è ancora arroccato un pezzo che all'inizio in teoria dovresti toccare un pezzo una volta solo sviluppare tutti i pezzi l'hai mosso 64 volte di fila che dici ma come hai fatto amore non so continuare a muovere perché non so dove cazzo deve andare chissà perché tutti questi principi che sono semplici fondamentali facili anche da ricordare poi sono così difficili da seguire è come dire voglio stare in forma mangia bene fai movimento non stressarti troppo la z repeat ogni giorno quanti lo fanno poi quarta cosa mi colpisce comunque quanto poco tempo ci voglia a diventare più bravo della maggior parte delle persone il quasi qualunque cosa ho parlato con un po' di persone ultimamente che mi hanno detto ah Monti ma ho visto che ho cominciato a fare dei video dove provi delle cose e facevo una lista della spesa allora ho provato a memorizzare un masso di carte ne ho memorizzato mezzo ho imparato il cubo di rubik ho studiato un po' gli scacchi ho imparato a fare un po' di questa roba qua di giocoglieria cioè così da principiante che ci hai dedicato un minimo di tempo non ho messo le 10.000 ore lavorative popolarizzate da Malcolm Gladwell che ha anche intervistato c'è intervista online ma ci ho messo un po' di ore ecco un po' di ore di tempo un po' di nottate insonni così a giocare e via stop ma appena tu ci dedichi un pochino di tempo rispetto a una persona che è la stragrande maggioranza delle persone che quella roba non l'ha mai neanche approfondita o l'ha sempre vissuto un po' distinto così tu diventi un'altra categoria è ovvio dall'altro lato e per diventare invece padrone della materia di qualunque settore serve una vita e secondo me gli scacchi ancora di più talmente vasto come mondo il database di informazioni che devi avere di esperienze di situazioni che veramente non finisce mai insomma è di una difficoltà che personalmente trovo clamorosa per cui è un mondo infinito ma come tutti i settori vuoi diventare federer good luck insomma not easy e poi chiudo la mia filippica scacchistica di lezioni imparate che però è stato veramente utile e spero insomma di proseguire in un qualche modo senza essere ossessionato come sono adesso se no a divorzio questo fatto sempre da tenere a mente la totale cecità che uno ha quando è concentrato su qualcosa totale cecità ho fatto una partita con fra frog bravissima per l'altro fra frog e a un certo punto potevo mangiare una torre era davanti lì a me c'era una torre da mangiare proprio così devi fare il tuo tic e hai mangiato la torre e invece ero concentrato sul lato destro della schiacchiera completamente concentrato per cui non vedevo minimamente non ho visto quel tipo di mossa where focus goes energy flows ecco quando ti concentri lì non c'è niente da fare hai una visione tunnelifica non vedi nient'altro e magari cercando la soluzione ai tuoi problemi lavorativi sei concentrato così hai scelto che quella è la direzione ti passa davanti uno che dice guarda ho qua pronto ho 10 milioni da dati li do gratis no 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 è la direzione la soluzione pazzesca sta roba come quando è presente che inizi a star male o c'hai qualche cosa hai un dolorino qua c'è un dolorino ma che cosa sarà e ti convinci che magari è quel qualcosa dici ah è senz'altro uno stiramento e allora inizi a trattarlo come stiramento poi vedi un altro che magari è un dottore che ti dice no guardami che è uno stiramento hai preso una botta è vero avevo preso una botta basta allora cambi completamente è pazzesco quanto siamo ottosi una volta vorrei veramente trovare qualche ricerca che studi quanto tempo passiamo ogni giorno in uno stato di totale cecità rispetto a quello che ci sta succedendo e dall'altro lato non sappiamo quello che non sappiamo lo sapete questa solita frasetta un po' adminchiam però è vero tu a volte una soluzione non la vedi perché semplicemente non lo sai quindi non sai di non sapere non lo sai questo era il mio rapporto scusate quegli scacchi mi chiamano sempre si oh Magnus sei tu gli parlo in italiano perché ormai sai con il GPT-4 si parla a qualunque liga non ce la faccio a giocare oggi no non posso muovi il cavallo ti ho detto eh dai vai scarsa vabbè scacchi meravigliosi